Bella a tutti ragazzi, oggi di nuovo durante l'ora di latino, baule magico ragazzi Questo sarà veramente un bel unboxing incredibile Allora innanzitutto come vedete siamo in Lega adesso Ciao ragazzi, sono pure io Abbiamo fatto una salita incredibile Quindi, raduniamo un po' di gente senza far troppo rumore andiamo ad aprire il nostro baule Ragazzi, baule magico per noi Unboxing Let's go Oddio Allora, leggendaria perché, vabbè, allora No, perché? Perché sì 1696 di oro, molto più del solito Ok, jolly epica Iniziamo alla grande Sette, quindi ho già tutte le epiche Ottimo Quindi, rare, ok Buono Ci sta, ci sta Tutte le comuni Cazzo c'è Ah, ho sbloccato la tornado Buono Ragazzi, c'era una leggendaria C'era una leggendaria per forza Per forza Legendaria No, no, non ho sentito Legendaria Ragazzi 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 Un tronco Quindi, per questo unboxing È tutto Ci rivediamo nel prossimo gameplay Che probabilmente registreremo pure adesso Però Bene ragazzi Bella